Cinque anni fa Carlos Antonio Lozada era un comandante delle FARC. Non avrebbe mai immaginato, un giorno, di camminare nelle vesti di senatore per i corridoi centenari del Congresso colombiano. Nel novembre del 2016 Lozada ha firmato l'accordo di pace tra il gruppo di guerriglieri e il governo. Un atto di cui non si è pentito, anche se accusa l'attuale esecutivo di aver violato l'accordo. Non solo siamo riusciti a fermare una guerra di più di 50 anni, dice Lozada. In quel testo c'è anche una sorta di tabella di marcia di quello che dovrebbe essere il processo di transizione della Colombia verso una società diversa dopo la guerra. L'accordo però ha messo fine solo in parte allo spargimento di sangue. Per molteplici motivi le scosse di assestamento dopo la fine del conflitto non sono ancora terminate. Ad alimentarle è la violenza dei dissidenti e il perenne contrabbando di droga nel paese. Più di 1500 persone sono state uccise dalla firma dell'accordo. Per Lozada è la conseguenza di un'applicazione solo parziale del trattato. Non applicandolo, non consegnando la terra a chi deve lavorarla, lo Stato nei territori continua a lasciare il potere nelle mani di gruppi politici ed economici, che sono legati anche ad economie illegali. A pochi metri dal congresso c'è il palazzo del governo. Juan Camilo Restrepo è l'alto commissario per la pace. Sottolinea i progressi fatti dalla firma dell'accordo e respinge le accuse di inadempienza. Il 95% degli ex combattenti oggi usufruisce della previdenza sociale grazie all'accordo. Il modo migliore per rispondere alle critiche è mostrare i fatti e i risultati. Con la pace non si può fare politica. Restrepo ha anche un messaggio per il Venezuela, paese confinante, noto per dare rifugio ai leader dissidenti delle FARC. In Venezuela c'è una dittatura e questa dittatura deve smettere di ospitare persone che fanno parte di gruppi armati e organizzati. La Colombia festeggia cinque anni di una pace incompleta. La Colombia ha ancora molte sfide da affrontare nei prossimi anni. L'influenza dei dissidenti delle FARC, dei guerriglieri delle ELN e dei paramilitari è ancora molto forte in alcune zone del paese. Il conflitto crea migliaia di rifugiati ogni anno ad alimentare la violenza e anche il traffico di droga, problema perenne della Colombia. Hector Estepa, from Bogotà, Foreuronews.